Un saluto da Dottor Palmas, quello che vedi è un caso splendido di denti fissi con sistema bocca bionica. Paziente giovane con una parodontite in stadio terminale, arriva da noi senza quasi più denti, questa era la situazione, immagina la vita sociale che poteva avere questa persona, oltre che l'alimentazione che aveva. Portava delle protesi mobili, sono state queste buttate e aveva già fatto degli impianti dentali ma che erano stati fallimentari. Mi hanno dovuto togliere tutto, posizionare dei nuovi denti con impianti dentali, questa è la situazione già dopo la chirurgia, alcuni impianti non li abbiamo subito caricati perché la qualità dell'osso non ce lo consentiva e questa è la situazione dopo la guarigione avvenuta dei tessuti, con tutti gli impianti dentali inseriti, protesi in zirconio e composito. Questo è lo schema grafico degli impianti dentali che sono stati posizionati, in questo caso abbiamo messo otto impianti nell'arcata superiore e due impianti in meno invece su quella inferiore. Su di questi abbiamo proceduto poi ad avvitare le protesi provvisorie col quale il paziente ha dato il tempo di guarire l'osso. Sulla sinistra vedi la situazione di partenza, il paziente che non ci aveva più denti, era già stato dal chirurgo, aveva messo impianti dentali ma questi si erano infettati in quanto la parodontite non era stata curata. Abbiamo fatto una bonifica completa, posizionati i nuovi impianti dentali, rimosso i frammenti di titanio delle vecchie viti che erano state posizionate. Come prevede il nostro protocollo abbiamo creato un design dei denti che avremmo voluto ottenere. Il paziente gli ha accettati e a questo punto abbiamo creato i denti definitivi. Due linee dentali iperrealistiche, abbiamo simulato anche la gengiva in quanto aveva perduto molto osso a causa degli interventi già subiti, le gengive indistinguibili da delle gengive naturali, in realtà queste sono gengive artificiali, la linea di passaggio delle gengive viene nascosta sotto le labbra. Questa è la resa cromatica e estetica delle arcate nella bocca del paziente. Come puoi vedere sono dei denti replica di denti reali, eseguiti col nostro sistema speciale che permette di simulare i nuovi denti nella bocca del paziente, avere un test prima dei denti definitivi e poi andare a riprodurre coi robot il risultato finale. Protesi come queste è difficile trovarle in giro con questo livello di realismo. Nel tuo paese protesi come queste, una singola arcata, potrebbero venire a costare più di 15.000 euro ciascuna. Per questo molti pazienti si affidano a noi perché possono ottenere un livello di iperrealismo che sarebbe veramente costosissimo nel proprio paese.